sul sul simmers e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono valuccia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra disney legacy challenge quindi bentornati e bentornati in casa snow e bene siamo di nuovo con la nostra anna perché ho proprio bisogno e voglia sinceramente di occuparmi un po di lei con elsa è vero dobbiamo occuparci della magia e tutto il resto però devo farle conseguire il livello 3 di un'abilità tra l'altro sei a livello 2 di quale forma fisica beh dai non è male lei comunque è una molto attiva quindi volendo potrei anche vedercela e manca veramente veramente poco questo perché ha utilizzato lo scivolo acquatico però vabbè potresti andare a fare una corsettina tesoro visto che ti capito sei iperattiva perché praticamente ho collocato ora vi faccio vedere il letto di kai qui perché insomma non resteranno qui per tutta la vita raga quindi stravolgere la casa non mi sembrava il caso scusate il gioco di parole e quindi ho piazzato il letto qui ho sistemato ricorderete che qui c'era un una sorta di come si chiama fasciatoio abbozzato all'epoca ne avevo creato uno io insomma incastrando vari oggetti del gioco ma ora ovviamente sono usciti veramente insomma fanno parte del gioco adesso praticamente fasciatoi e quindi sì c'è stato praticamente una notte da incubo perché hanno avuto degli incubi soprattutto lui e lei si è svegliata terrorizzata praticamente però a causa del mostro sotto il letto quindi e vive viva mai una gioia e chi sei i lattanti possono essere delle autentiche pesti specie per i nuovi genitori ho una specializzazione in assistenza all'infanzia e aiutato delle giovani famiglie del quartiere tante volte sarei felice di darti una mano per qualche giorno se fosse disponibile a ospitarmi no grazie ma non abbiamo lattanti ma io dico boh ma vabbè allora la nostra deve presentarsi al diecisim quindi dobbiamo anche darci da fare con la sua aspirazione non che sia vitale farlo ora perché abbiamo volendo tutta la sua vita per poter non è un obiettivo della challenge ecco completare l'aspirazione però voglio dedicarmi esercitati nella battitura per quattro ore quindi tu vieni qui tesoro ti metti qui e effettivamente potresti dedicarti proprio a questo esercitati nella battitura mentre tuo fratello deve giocare di fantasia nella casa sull'albero e conseguire il livello 3 di creatività ora il problema è che noi non abbiamo una casa sull'albero al momento quindi deduco che dovremmo costruirla ma che meraviglia tu qua puoi buttare sta roba chiedi di se soffre di solitudine vai a chiederle se soffre di solitudine vai dopo di che le eliminiamo la pianta morta perché insomma raga direi che non è il caso con anna dobbiamo fare i compiti e conseguire il livello 3 di un'abilità qua ce ne stiamo già occupando dell'abilità quindi evviva evviva che dobbiamo anche occuparci qua del giardino ma possiamo no ovviamente non possiamo farlo devi occupartene tu tesoro un sacco di cose da fare perché sì comunque diciamo che angel si occupa ovviamente di cucinare anche però sostanzialmente le attività che riguardano la casa tipo ecco il giardinaggio queste cose qui non sente che sono una sua responsabilità questo è l'orto di famiglia questo è tutto è iniziato con la nostra biancaneve dove li stai portando ragazzi vi prego ma perché deve far così sta donna ma dove ma dove li sta portando tu hai dei problemi quando fai così anna veramente ma che cacchio fai ma io ma perché e anna abbiamo organizzato un piccolo incontro prima del ballo studentesco ti va di partecipare a nulla mi dispiace ma no ma perché ma che fine hanno fatto ora i panni ma io sono spariti raga viene a sostituire io non ho parole ha fatto sparire il bucato ditemi che ce l'ha in tasca vi prego ok no perché altrimenti è insomma era un problema ma raga io non capisco secondo me è buggato a sto punto quindi questo qua te lo metti in tasca tesoro e lo vendiamo basta perché l'unica spiegazione è che si è buggato sostituisci l'acqua lo so hai tutte le ragioni quindi fai così fai capricci fai jogging per schiarirti le idee vai sei ovviamente rimasta male del non essere riuscita a portare a casa un bucato decente vai va vai su che non manca molto chi cioè chi è costui Tyler eh ma devi farla una presentazione amichevole lui è un parente mi raccomando no Tyler 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 che schifo non ce la posso non guardare che continua qui a fare quello che vuoi questa corre con il cellulare in mano mi sembra la cosa più logica chi è costui masaru che si fa una passeggiata invece di andare a consegnare le pizze mi sembra giusto perché devi correre così ma io non ho parole ma perché ah il nostro ristorante raga torneremo ad occuparcene eh lo faremo assolutamente sì forza su su cerchiamo di mandare avanti veloce con la speranza che mi ottenga questo punticino quanto manca no no questo lo saltiamo avevo già deciso che l'avrebbe saltato oh perfetto hai raggiunto il livello 3 di forma fisica ottimo lavoro basta quindi e vai a presentarti tra l'altro abbiamo ottenuto un maggior controllo emotivo fatemi vedere responsabilità a palla educazione a palla e dobbiamo lavorare su uno di questi l'empatia per esempio lei secondo me ce l'ha parecchio sviluppata la risoluzione dei conflitti perché lei prova in realtà le a tutti secondo me lei tutti abbastanza sviluppati questi valori caratteriali abbiamo ottenuto due di 10 no ancora non è non ci ha dato la presentazione sì attimo era allegra che insomma lo devi conoscere un pochino acquisita l'abilità di giardinaggio raggiunto livello 2 ci sta perché comunque è una tradizione no di famiglia occuparsi del giardinaggio quindi un minimo non dico che deve essere una giardiniera provetta però come sta andando qua tesoro l'hai ottenuto ok è vero che dovevi raggiungere il livello 10 però aspetta un attimo dai ci sei quasi su continua un altro po' dove sei continua un altro po' continua esercitarti un altro po' mi rendo conto che è una rottura di scatole si sta tutto il giorno lì davanti però pensa che hai raggiunto il tuo obiettivo patato tu metti nell'inventario dovremo costruire questa casa sull'albero tra l'altro io qui ce la vedo proprio una bella casa sull'albero vediamo un po' magari dove posso piazzarla perché non vorrei insomma piazzarla qui magari pensavo che potrei distruggere questo ormai non serve più a niente oggettivamente e crearla qui la casa sull'albero perché comunque preferisco che sia davanti insomma no dietro è bello ricco di giochi quindi mi sembra giusto anche distribuire un pochino ordina una pizza perché no patato eccola qui la pizza prendi la pizza da haruka owel salve haruka come va tutto bene ma lei in questo stato mi fa le consegne sta lì per partorire guardi insomma si riguardi va beh si l'ho ordinata io la pizza ma tua madre sa che hai ordinato la pizza certo che lo sa no non è vero tesoro non lo sa hai fatto di testa tua di tua iniziativa ma mamma apprezzerà perché non deve cucinare quindi benissimo del resto non possiamo nemmeno darle la mancia ti ha detto male tesoro perché ecco niente mancia un bambino in arrivo e niente mancia e lo so tesoro hai ragione ma sono le adulte sono indaffarate in questo momento eccola ha massimizzato raggiunto il livello 10 dell'abilità motoria a posto ragazzi raggiunto il livello 9 tutto il giorno per raggiungere sto livello 9 poveretta molto tesa guarda ti mando a correre un po sul tapirulano ma fatti due chiacchiere però intanto parla di cucina non lo so discuti di enigmi logici poi magari mamma mia ragazze stanniera proprio rallegra discuti degli interessi giustamente è meglio parlare da lì perché figuriamoci figuriamoci più c'è tesoro sentiti fiduciosa all'aperto di notte sì perché lei appunto si è spaventata a causa del mostro sotto il letto vai ad allenarti dammi retta tu sediti qua fammi la corte oh mamma mia vedo qualcuno furente e con tutto il dovuto rispetto caro il mio filippo ciao perché insomma non è proprio il caso ok cioè non voglio che girino i fantasmi lo so che le ho messe io le tombe lì per un discorso di famiglia insomma no però non voglio che lei veda i fantasmi dei suoi genitori allora vai ripulisci in un certo qual modo diciamo che vedere i fantasmi dei suoi genitori la rincuorerebbe no la farebbe sentire in modo diverso invece lei soffre comunque per la perdita dei suoi genitori e per ciò che ha comportato l'allontanamento di elsa quindi se cominciate a vedere i fantasmi che girano per casa ragazzi secondo me questo effetto chiamiamolo nella storia si perderebbe e niente non ce la fanno proprio a stare seduti non ce la fanno raga è più forte di loro non ce la possono fare va meglio vedo che il divertimento è a palla sei energica che bello a posto va meglio vai a fare jogging va bravissima oh eccoli qua che carini volevo fare una foto e raga io direi che mentre mi occupo di metterli a letto di fargli fare le ultime cosine è vero che lei la volevo però darle una pozione e farla lavorare al giardino magari ora off camera poi me ne occupo direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio abbiamo si portato a termine diversi risultati io sono soddisfatta sono sono sincera sono soddisfatta e nel prossimo non so se continuare ancora un po con loro perché cioè vorrei che angel ottenesse la promozione vi dico la verità vorrei proprio che la ottenesse quindi vorrei lavorare su questo ultimo obiettivo farle raccontare storie di guerra insomma fare un po di cosine viene a dormire tesoro anche tu patato non ce la fai più viene a dormire tanto puoi continuare compiti domani e quindi sì credo proprio che tornerò comunque ancora con con anna tanto è il weekend quindi comunque preferisco darmi da fare per ora concentrandomi sulle sue abilità sulle sue obiettivi un po magari sull'aspirazione magari potrei mandarla in giro a fare questo vediamo un attimino comunque invitare persone a casa o piazzarci qui e andare in giro per il parco vedere chi riusciamo a incontrare insomma vorrei fare un po di cosine perché fino all'ultimo eh ce la sta proprio mettendo tutta bravo patato sei un tipetto responsabile ora vattene a letto però perché sono le quattro ma io boh ti prego dimmi che non ti stai leccando le che stai facendo lì ma stai dormendo lì vicino ma per niente li metto in sesto e direi che noi ci vediamo nel prossimo episodio della Disney Legacy Challenge ma intanto vi ricordo che se questo episodio vi è piaciuto vi invito come sempre a iscrivervi al canale mettere mi piace lasciare un commento vi ricordo anche che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi programmazione del canale playlist link ai canali dei amici youtuber quindi mi raccomando andate in tutti i loro canali scrivetevi attivate le campanelline mettete mi piace a tutti i loro video ma soprattutto commentate vi ricordo anche che i riferimenti ai canali dei miei amici youtuber se non li trovate più nelle descrizioni dei miei video ma li trovate all'interno della sezione canali caratterizzata da un cuoricino rosa scusate viola presente sempre nel mio canale quindi andate lì e mi raccomando sosteneteli sempre io vi abbraccio forte ci vediamo in un prossimo episodio della Disney Legacy Challenge di nuovo qui con la nostra Anna vi mando un bacio gigante e vi auguro una buona giornata una buona serata secondo il momento in cui guarderete questo episodio sul sul e non Grazie a tutti.